John Deere è stato un pioniere della navigazione. I suoi caratteristici ricevitori gialli sono ovunque. E più di una semplice stanzata automatica, se abbinate i dati di posizione ad altre informazioni, come le rese e i tassi di dosaggio, diventa molto potente. I sensori possono fare cose che noi non potremmo assolutamente fare da soli. Con ICAQ è come avere un altro operatore in cabina con voi. Con la giusta tecnologia saprete se un lavoro è stato eseguito alla perfezione, sempre. Le innovazioni John Deere, come Harvest Lab, ridefiniscono completamente il valore del nostro servizio. I dati sono preziosissimi. Dovete assicurarvi che vengano archiviati in un luogo affidabile. Il monitoraggio e la regolazione delle macchine, ovunque mi trovi, mi fanno sentire veramente libero. Tutti questi strumenti abbinati offrono grandi vantaggi in termini di efficienza durante la stagione della raccolta. I motori elettrici sono molto più precisi di un impianto idraulico e un comando PTO. Ci aiuta veramente a tenere sotto controllo i costi dei fertilizzanti e dei prodotti chimici. I nuovi bracci sono un ottimo esempio di come i nuovi materiali ci consentono di lavorare con maggior precisione ed efficienza. A volte cose semplici, come i componenti ultrarigidi più duraturi, possono contribuire molto alla vostra redditività. Installare le attrezzature non è mai stato così facile. I comandi sono intuitivi. Potete imparare a utilizzarli in pochi minuti. Il salvataggio automatico dei dati e la possibilità di accedervi da qualsiasi dispositivo sono impareggiabili. Quando la gente pensa a John Deere, pensa a grandi apparecchiature, ma per me si tratta anche di un'azienda tecnologica.